top 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 benvenuti o benvenute stessa cosa ambedue le cose vanno bene in questo come posso chiamarlo nuovo video teoria ma nello stesso momento di approfondimento che andrà a vedere come protagonista che ci mostrerà come vi mostrerò io ma in cui vi parlerò del protagonista che è kaido kaido di cui noi abbiamo fatto già diversi video e katakuri ma anche oggi andremo ad analizzare sotto una diversa chiave di lettura che è quella introspettiva come sto facendo negli ultimi video di questo questi ultimi video un po più speciali stiamo mostrando qui su youtube mi sono fornito di questi occhiali magici che sono assolutamente utili per l'esplicazione del video allora ragazzi voi lo sapete bene se seguite no come sempre io mi invito a recuperare le live della domenica l'ultima fantastica con niki brian direttamente da masterchef 11 ma oltre ad invitarvi a recuperare quelle per i tanti nuovi iscritti che ci sono su youtube mi invito sempre innanzitutto ad andare nelle playlist quindi video teoria video approfondimento video interviste live con ospiti live a tema live aperto eccetera lo sapete eccetera 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 dopodiché attivate la campanella e ceccate quindi nei feedback di seguirci con una certa continuità lo dico che è molto importante perché poi chi si iscrive non sa tutto il percorso che ci ha portato a dire certe cose e quindi sono tutti dei piccoli pezzi che si congiungono si uniscono e vanno a formare quel quadro completo tipo faccio un esempio su zoro e catecuri fra live e video abbiamo fatto non so quanti approfondimenti che quindi poi dopo vi danno la soluzione completa di quella che è la nostra idea no in merito ovviamente molto spesso ci andiamo vicini molto spesso è la verità quasi sempre però ripeto per chi si è quella prima volta massimi esperti che leggete non è una questione di favoreggiarsi ma è una questione di un nome che è stato attribuito al canale e attraverso quelle che erano le componenti tante che c'erano e che poi dopo è diventato però realtà nei fatti perché io e catecuri anche con brook spesso in live ma io catecuri nei video lo facciamo per hobby per passione ma ovviamente poi sul campo no come nelle partite di calcio poi si deve dimostrare in un qualche modo non è una gara perché non è una gara con nessun altro ma noi siamo di cui lo facciamo per voi quindi semmai dovesse essere intesa come gara la gara sarà nel fatto che noi cerchiamo di darvi contenuti sempre migliori dal punto di vista qualitativo e appunto di mi ripeto scusate se mi ripeto di contenuto per quanto concerne ciò che diciamo ovviamente un ringraziamento lo faccio sempre perché ci segue tutti i social scusatemi su questo preambolo subito vado sul video poi è subito vado sul contenuto importante quindi sulle due pagine facebook gruppo facebook canale telegram twitch youtube instagram ok aveva pure il gruppo su quello lì telegram privato ma quello è solamente per chi ha appunto su youtube e ha questo esclusivo diciamo feedback in più di poter parlare con me quando ovviamente ci sono e quando riesco comunque andiamo veloce ho perso troppo tempo andiamo sul po mi metto gli occhiali dobbiamo entrare nella trans agonistica di questo video allora ragazzi oggi parliamo di chi di caido caido facciamo questo focus sul suo personaggio che è molto importante questo uomo questo essere questa creatura questo personaggio questo ville ci viene presentato in un modo spettacolare no e ci fu quella presentazione che non sto qui diciamo a ripetere dettagliatamente ma facciamo giusto per toccare il tema in cielo in mare intera si conclude se vuoi combattere con qualcuno falla con caido no è stato catturato è stato arrestato hanno provato ad ucciderlo allora da fare tantissime cose ma hanno sempre fallito a un certo punto c'è quella voce narrante che dice non riesce a morire nemmeno lui stesso riesce ad uccidersi infatti c'è l'esempio che si butta da un isola nel cielo e caido dopo il sconfitto li ha unì a cima per la prima volta e fa vedere i rossi che sono ultimamente a termine che poi arriva rufi e le altre supernova ci dice quella frase no una frase incredibile che possiamo anche trovare volendo con un legame nel buscino che la morte è il compimento di un uomo nel capitolo 1046 dopo le ultime tavole si evince che caido in qualche modo sia contento di affrontare un avversario degno e forte come monkey di rufi e che caido in genere non l'abbiamo mai visto sorridere e ciò è avvenuto appunto con rufi contro rufi perché probabilmente felice del fatto che sia arrivato finalmente un avversario che lui ha aspettato per tutta la vita puntualizziamo un po' quindi questa caratterizzazione del personaggio perché caido viene presentato come un essere praticamente quasi invincibile questo alone di questa energia di ogni potenza ok uno versus uno devi sfidare caido che è praticamente quasi immortale appunto e quindi come dicevo prima quasi lui stesso non riesce a togliersi la vita è un personaggio che però è molto profondo che ha bisogno probabilmente di un flashback completo per esprimere tutta la sua essenza perché noi abbiamo visti già i vari pezzi del flashback i mini flashback sparsi durante la narrazione che praticamente ci fanno capire varie cose ma non completano il quadro uno per esempio quello di king ci fa capire una cosa fondamentale essenzialmente quanto caido sia forte perché dice rimani sempre il più forte king parlando con caido e forse inizialmente caido credeva lui di essere gio e boio di poterlo diventare poi successivamente si deve essere ricreduto per qualche cosa che è successo infatti adesso non è più convinto ciò potrebbe essere appunto la delusione la più grande e principale delusione di caido quello di non essere diventato lui appunto gio e boio quello di non essere il prescelto in un qualche modo di non essere l'uomo che si farà carico del peso del mondo del peso della storia perché comunque diciamo sicuramente caido non è partito il caido che noi conosciamo e vi è stato un percorso e una modifica un cambiamento che l'ha portato a diventare ciò che lui adesso è lo vediamo ancora una volta dalla presentazione no lui si rammaricava della scomparsa della morte di new gate accusandolo di essersene andato per primo no di essere andato via in grande stile morendo in quel modo veramente spettacolare ricorderete new gate lui quindi cosa aspetta caido in questo momento storico della narrazione una grandissima guerra una grandissima battaglia vuole morire in un qualche modo che gli renda gloria che gli renda la nomea che faccia sì che lui possa anche godere di quella battaglia infatti se fate caso durante la battaglia con rufi lui è deluso dalle varie sconfitte di rufi ogni volta che lo batte rimane deluso quando lo butta giù ricordate non è a scima che poi rufi va a finire a mare la sappiamo la storia dice addirittura neanche tu sei diventato gioiboi questo ci fa capire che caido stava sperando in qualche modo che fosse diventato rufi quell'uomo lì quell'uomo che l'avrebbe sconfitto che poi dopo lo sappiamo che lo è infatti poi sapere essere sconfitto finalmente nei prossimi capitoli speriamo ciò avvenga nei capitoli 1046 1047 gli ultimi praticamente poi leggeremo 1048 1049 50 eccetera eccetera lo vediamo ridere finalmente nuovamente già era avvenuto nei vari capitoli precedenti mentre combatteva con rufi ed è qui che secondo noi oda sta puntando sulla profondità di questo personaggio sulla sua caratterizzazione che secondo noi è veramente memorabile e lo sarà ancora di più alla fine lo scontro con rufi e magari con un flashback di contorno molto importante contorno inteso come cornice che andrà a chiudere il tutto no come contorno come accezione extra che non serve assolutamente perché lui finalmente è capito che arrivati il momento in giunto il momento che lui aspetta da una vita arrivato quel preciso istante in cui affronterà qualcuno che probabilmente è riuscito a superarlo è qualcuno che nell'uno contro uno è diventato più forte di lui qualcuno che comunque è destinato a sconfiggerlo almeno in questo istante e quel qualcuno è proprio rufi è proprio jibboi è proprio il leggendario nika ne lo sappiamo no zunesha sente i tamburi della liberazione nika era jibboi ed è rufi nika ovviamente anche il nome dell'ozone mitologico leggendario che c'è rufi ma è tutt'uno è un unico personaggio un'unica entità qualcuno che può sovrastare caido in termini di forza qualcuno che probabilmente può soverchiare tale credo di una potenza allucinante è arrivato qualcuno che probabilmente un qualcosa che non succediva nel mondo di one piece probabilmente da quando caido ha raggiunto il livello in cui lo conosciamo da quando caido è un imperatore ovviamente quindi per esempio caido contro i nuovi foderi rossi parla di questa morte come compimento dell'uomo come se la morte fosse una fase della vita stessa no perché quindi raggiungendola si raggiunge l'apice massimo e qui c'è un'ulteriore analisi da fare introspettiva su questo personaggio perché tutte queste frasi che caido rivolge ai suoi avversari secondo noi in un qualche modo valevano e valgono anche per lui come se lui fosse contento adesso di perdere contro rufi e come se lui diciamo completasse e quindi comprendesse se stesso nella sconfitta magari nella morte tra virgolette perché noi sappiamo bene che comunque rufi più che uccidere fisicamente le persone le supera le uccide negli ideali quella è la vera vittoria di rufi e ovviamente fino a oggi nella narrativa oda non ha mai fatto uccidere nessuno per mano di mogli guardano rufi e quindi insomma non sappiamo se inizierà mai con caido o meno ma credo deve essere un uomo che va a compiere tale destino quindi volente o non vedremo come avverrà e se avverrà questa morte la sconfitta sicuramente la morte cercheremo un attimino di capire insieme a oda come potrà esprimerla in quali termini quindi il suo compimento è qui nell'affrontare uno versus uno rufi gio e boenica che con il risveglio è diventato probabilmente più forte di tutti dovrà migliorarsi dovrà affinare i suoi poteri ma è lì il numero uno del manga e quindi spingeranno se stesso rufi e kaido al massimo e probabilmente poi kaido perderà nel momento in cui verrà sconfitto in quel momento in cui lui verrà soverchiato sarà il compimento del suo personaggio la sua esasperazione il suo segreto e la sua ricerca di tutta una vita perché alla fine come dicemmo io e katakuri secondo noi non è che si nasce sempre o buoni o cattivi non è sempre tutto o bianco o nero c'è anche il grigio perché ci sono le esperienze e i percorsi è quello che si fa che dimostra chi sei non è quello che sei che dimostra attraverso quello che fai cioè sono le tue gesta a dimostrare la persona che sei diventato quindi attraverso un percorso e le gesta di kaido è diventato l'imperatore il tiranno lo jonco resta il più forte sì questa era un'accezione che caido aveva preso e ci siamo vinci le battaglie domina con la forza sovrasta il tuo nemico però in kaido c'è anche un genere di lealtà vi ricordate dopo aver sconfitto oden dice ho fatto fuori questa dopo aver vinto contro l'ufi per via della gente della cp zero l'ho fatto fuori quindi kaido comunque è un onore nel duello però nello stesso momento è un tiranno è un distruttore è un uomo che beve ne abbiamo scoperto che beve anche per fare le fasi dell'obbligatezza eccetera eccetera per rendersi più forte nei suoi altri ma è anche un'accezione introspettiva per le sue sofferenze quindi kaido ha capito a un certo punto della sua vita di non essere diventato lui joy boy di non essere quell'uomo nel percorso le sue decisioni e il suo atteggiamento l'ho fatto diventare quello che è e nello stesso momento lufi con il suo percorso con le sue gesta con le sue azioni con il suo salvare le razze le isole i popoli passi carico delle sofferenze riuscire ad andare oltre le apparenze riuscire ad andare nel profondo nel cuore delle persone salvando le facendosi carico anche a volte di problemi che non sono rufi ogni volta che combatte ricorda qualcuno ogni volta che sa per vincere deve ricordare qualcuno ogni volta che esprime una sofferenza gli ultimi sono stati ma monosu tama petro e kinemo mo un paio di capitoli fa quindi capiamoci il percorso di rufi l'ha portato a essere joy boy e nika oltre che tutto quello che c'è dietro il frutto i poteri eccetera il percorso la personalità l'interiorità e questo è kaido kaido ha fatto un percorso e non è diventato il joy boy è diventato kaido ma la filosofia di questo personaggio incredibile ragazzi perché noi dovremmo vedere flashback cosa è stato cosa è successo nei pirati rocks la crescita i tradimenti il legame con big man il frutto l'origine perché awano proprio qui doveva arrivare joy boy perché gli oni perché sua figlia viene già perché lui sembra un oni ti trascina isole la sua origine il suo legame la storia di kaido è una storia che riecheggerà comunque va però sconfitto ovviamente e quindi secondo noi flashback c'è stato quello di oden c'è stato quello di king in particolare di amato hanno contornato kaido ma mo ora ci vuole quello di kaido per chiudere il cerchio il pezzo che manca per l'uomo per la creazione perché secondo noi c'è la delusione di non essere diventato joy boy e questa è la sua vera sofferenza e c'è collegamento con la morte ma ci mancano dei pezzi per questo jonco che secondo noi dimostrerà di essere un personaggio ancora più incredibile di quello che già è stato come come con il flashback perché quella è l'ultima cosa che ci manca il giovane il piccolo kaido abbiamo visto con big man dobbiamo vedere pure con lui non avrebbe senso alcuno la mostraccia quindi diteci nei commenti a parte mettere l'hashtag kaido e joy boy oppure no kaido and joy boy non mi piace kaido non è diventato troppo lungo si però fate così kaido non è joy boy così mi piace kaido non è joy boy però dice nei commenti che secondo voi qual è questa parte questo pezzo del compimento dell'uomo dell'introspettività della sua personalità che non si è compiuta qual è la parte che mancava della delusione di diventare joy boy del fatto dell'introspettivo il compimento dell'uomo della morte qual è la verità ragazzi perché c'è una verità e la voglio sapere anche da voi quindi dico qui nei commenti fatemi sapere come sempre cosa ne pensate mettete like attivate le campanelle come ho detto inizio video tutti i nostri social e quindi io vi ringrazio da parte mia e da parte di katakuri come sempre solo la verità un saluto ovviamente anche a kaido che purtroppo per lui non è diventato